Si prevede un aumento del traffico su strade e autostrade a causa degli spostamenti di chi si sta recando nelle località turistiche. Pertanto ANAS e Gruppo FS Italiane, per facilitare la circolazione sulla rete stradale e autostradale di competenza, rimuove a partire dall'8 luglio fino al 4 settembre oltre 500 cantieri, più della metà di quelli attivi oggi, con l'obiettivo di offrire un viaggio più confortevole e sicuro non sono per gli spostamenti a breve e medio raggio, ma anche per quelli a lungo raggio. La riduzione dei cantieri stradali rientra nell'ambito del piano concordato e promosso dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. L'operazione di rimozione dei cantiari si unisce inoltre al piano ANAS Mobilità Estiva 2022, che sarà varato a breve in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e a vari enti. Rimarranno invece attivi i cantieri inamovibili. Grazie a tutti.